cari amici telespettatori rivolgo questo video a tutti coloro che hanno dei locali dove fanno serate che magari hanno bisogno di presentazioni io sono un aspirante conduttore ho questo canale ormai da anni e la mia ambizione principale è arrivare al pubblico in qualsiasi modo non importa il cachet l'importante è presentare e farmi conoscere la gente quindi se siete dei locali dove fate musica o fate cose allegre potete rivolgermi a me sono l'aspirante conduttore su tutti i social e quindi potremmo organizzare delle serate insieme per condurre quindi aspetto una vostra risposta da tutti gli enti possibili di locali che fanno serate di conduzione oppure qualsiasi cosa qualsiasi sagra qualsiasi cosa per appunto che dia la possibilità a uno un ragazzo come me di condurre un abbraccio a tutti credo di essere stato molto chiaro in questo video aspetto una vostra risposta quanto prima e un grandissimo abbraccio dal vostro samuele aspirante conduttore